Covid-19, sottosegretario della Salute Zampa, chi non si vaccina non può lavorare nel pubblico. Sandra Zampa, sottosegretaria di Stato al Ministero della Salute, intervenuta da Grasur, Rai 3 ha affermato, io credo che l'obbligatorietà del vaccino debba essere una precondizione per chi lavora nel pubblico. Se ci dovessimo rendere conto che evidentemente c'è un rifiuto che non si riesce a superare, io penso che nel pubblico non si possa lavorare. Zampa ha anche parlato del vaccino anzitempo somministrato a Vincenzo De Luca, governatore della Campania. Come è stato possibile che lui si vaccinasse è una domanda che va posta a lui e a chi era lì presente con lui. Di certo io faccio notare che le indicazioni che il Ministero ha dato erano assolutamente distanti da questo, nel senso che noi abbiamo dato indicazioni sulla priorità dei target da vaccinare e in questa priorità c'erano i medici, gli operatori sociosanitari e gli anziani delle RSA. Mi limito ad annotare e ad osservare che De Luca certamente non ha rispettato questi criteri che erano stati indicati da noi. Devo dire però che non è la prima volta che il Presidente De Luca non rispetta le indicazioni, oppure ritiene che le indicazioni che vengono fornite dal Ministero e dal Governo non siano di suo gradimento. Infine a proposito delle dosi distribuite in Germania e in Italia, Zampa ha spiegato che in realtà la Germania ha avuto solo un'anticipazione delle dosi previste dalla distribuzione europea, 11.000 dosi in più che sono in percentuale una cifra simbolica. Perlino ha avuto in sostanza un'anticipazione di quello che sta arrivando a partire da oggi, 28 dicembre, ovvero la fornitura delle dosi previste. Per l'Italia sono 470.000 dosi a settimana e la fornitura inizia oggi, 28 dicembre. Grazie. Grazie.